È una giornata secondo me di inizio, di un percorso che spero di poter sostenere ancora perché io credo fortemente che Palermo e Catania restano i due più grandi avversari credo della storia del calcio siciliano, però non potranno mai essere nemici. Questa è una follia che c'è stata negli anni, questo è un inizio, un contributo. Io dall'inizio ho detto che Palermo e Catania devono stare insieme per le grandi battaglie, per sostenersi nelle difficoltà e poi chiaramente in campo vinca il migliore. Il Catania vive un momento di difficoltà, il Palermo vive un momento di difficoltà visto che sta partendo da zero, però non c'è dubbio che debbono l'una sostenere l'altra. Il Palermo non si vende, quando allo stadio si è venduto la partita, il Palermo non si vende, il Palermo resta di Palermo. Il Palermo probabilmente, come ho detto sin dall'inizio, ha bisogno di un sostegno economico ulteriore perché io posso arrivare con tutte le mie forze per quello che sto realizzando. È chiaro che io voglio guardare avanti come credo qualsiasi papà per i propri figli, magari può avere il desiderio di consentire una migliore crescita possibile, quindi da questo punto di vista io credo che sia giusto che io, con la mia responsabilità, consenta al Palermo uno sviluppo ulteriore. Il Palermo non ha nessuna emergenza, può andare avanti da sola ma può andare ancora meglio con maggiori forze.